Storia a lieto fine nel Vallo di Diano, dove un uomo è stato soccorso da un agente della Polizia Municipale di Sala Consilina, guidata da Claudio Cioffi, dopo essere stato colto da un malore. L'uomo, un cinquantenne diteggiano, domenica stava percorrendo in auto con la moglie la strada che conduce alla Valle delle Orchidee a Sassano, quando si è sentito male. Ha accostato l'auto, ma la zona impervia era tale da non essere coperta da linea telefonica, di cui le difficoltà di allertare i soccorsi. Il caso però ha voluto che di lì transitasse fuori dal servizio l'agente della Polizia Municipale di Sala Consilina, Marina Mazziotti, che appena si accorta del problema, con l'auto ha raggiunto un'area coperta da segnale e avvisato i soccorsi. Un'ambulanza è così riuscita ad arrivare sul posto e a trasportare il cinquantenne in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.